cara lorenza benvenuta a questa nuova lezione del corso di edizione online di caruso speaker ebbene lei è fortunata perché vive ad albero bello una delle cittadine che amo di più perché tutte le volte che ritorno ad albero bello mi sembra di vivere in un paese incantato di vivere in un luogo da sogno perché sono veramente affascinato da quelle costruzioni bellissime dei trulli io ho anche avuto la fortuna di conoscere un mastro trullaro è il mio amico leonardo non so se lo conosce si chiama leonardo e fa il ristrutturatore di trulli video in cui io racconto proprio come lui mi spiega come nascono i trulli ebbene è ad albero bello che questo posto straordinario si parla il dialetto pugliese e quindi la cadenza pugliese implica una e un po chiusa come quella di bene piuttosto che bene e ok a posti ok fa un po così il dialetto pugliese e allora e fa un po così dobbiamo cercare di stare un po che ok stiamo calmi per evitare l'effetto zalone che veramente simpaticissimo come attore dobbiamo studiare bene la dizione fino adesso ci siamo concentrati sulla e chiusa e la e aperta che è quella di ok giusto è quello quindi non si dice ok ma si dice ok parlo come pinuccio quello di strisce la notizia ok ok adesso visto che abbiamo superato comunque ci stiamo avvicinando a superare i primi le difficoltà con la e aperta e chiusa oggi ci occupiamo della o o aperta o chiusa allora condivido subito lo schermo con lei in maniera tale da avere quindi la possibilità di studiarci quali sono i casi con la o aperta adesso mi ascolti bene lorenza lei accanto a sé a un manuale scusi a un blocco notes si su questo blocco notes mi raccomando con una penna dovrà scriversi quali sono le parole che a lei vengono più difficili le più ostiche e dovrà scriversi soprattutto quali sono i suffissi e le terminazioni verbali che lei non conosce cioè che non dice esattamente come dovremmo dire la o aperta è molto probabile che lei ne abbia tante di cose da correggere perché spesso i pugliesi tendono a mettere la o chiusa va bene adesso proviamo a leggere insieme dunque la o aperta sia sempre la o aperta nei casi seguenti ecco leggo appunto il primo caso nei nomi che terminano con iolo 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 esempio esempio c'è il cagliolo c'è il cagliolo roggiolo croggiolo figliolo mariolo mariolo mostacciolo vaiolo vaiolo quindi perciò mi viene da dire e questi qua con la o aperta non c'è problema giusto e non lo so giusto io non so se dico le cose correttamente 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 no correttamente no allora me li ripeta io io credo che lei non abbia problemi però me li ripeto nel iolo allora c'è il cagliolo croggiolo c'è il cagliolo c'è il cagliolo sì croggiolo figliolo mariolo mostacciolo vaiolo perfetto per me vanno bene ma andiamo avanti ecco la o aperta sì quindi nomi che terminano in occio bamboccio varoccio cartoccio figlioccio sì va bene sì sì poi in berlin olsi olse olsero sì colsi sciolse tolsero sì e nel participio passato in osso commosso promosso scosso benissimo e quindi va bene ma per fortuna ma sì ma sì se lo ripete quindi fino adesso non abbiamo problemi si dovrà segnare invece quando quando invece abbiamo problemi d'accordo nei nomi in otto sì bergamotto 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 fiotto 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 fiancotto perfetto poi i nomi in ozio i nomi in ozio equinozio equinozio maritozzo predicozzo tozzo carrozza si cozza piccozza tavolozzo nei nomi in ozio accessorio accessorio illusorio provvisorio si nel bittongo uo 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 buono cuore cuoce duomo fuoco muore nuovo nuora ruota scuola suola suono suora suocera uomo vuole vuoto benissimo ma le sue lezioni mi aiutano tanto perché poi ascolto sempre i suoi video poi poi ah sempre i miei video ma dove su youtube si su youtube quindi ah che bello mi va piacere così mentalmente di riprogrammare questa nuova modo di mental 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 mentalmente mentalmente ok ok cioè mi accorgo che forse prendo se la prendo singolarmente riesco eh eh sì durante l'articolare la frase e lo so perché lei non ci pensa però l'importante che lei si corregge vedi quindi la capacità di correggersi auto correggersi e la strada per riuscire e sì grazie alle sue lezioni mi dà questa possibilità di potermi poi correggere esatto ne sono ne sono tanto ne sono felice poi vado con i monosilladi quelli con la u l'ho fatta e sensi l'esempio no so do pronuncia no so do esempi dirò farò pagherò però rococò rococò poi 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 abbiamo la o poi abbiamo la o chiusa vediamo un poco perché fino adesso non abbiamo avuto problemi quindi sono molto contento ah grazie è una cosa che ci tengo tantissimo e da anni che e lo so lo so lo so però ci sono anche delle cose che l'aiutano dal punto di vista della naturale no perché se lei è più penalizzata con le e magari con le o è più favorita però dalle sue parti evidentemente non c'è questa tendenza di questa cosa di fare sempre con la o chiusa che forse c'è da qualche altra parte della pubblica è proprio in provincia di bari però se proprio bari secondo me bari è proprio in città o foggia perché già forse barletta foggia va bene poi va beh la buia è molto varia però sì è importante questo ok andiamo avanti allora continuo nella nelle parole che termino in oce oce sì atroce 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 feroce feroce noce vado la sento noce sì veloce voce io non so quando sbaglio sinceramente nonno scusi non so quando sbaglio ma glielo devo dire io lo dico io se non sbaglia però lega lentamente feroce noce croce noce veloce una cosa Lorenza non abbia paura sempre di sbagliare perché lei molte cose le conosce già d'accordo se io non la richiamo vuol dire che non ho notato ok cosa è che devo attenzione però non è ok ma ok ma questo ok non arriva e vabbè dai prima un po' uscirà e uscirà uscirà ok 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 esattamente posso dire il nome dei miei figli se lo dico correttamente? corretta? corretta? correttamente correttamente certo mi dica pure i miei figli si chiamano Diego e Noemi Diego e la E aperta l'ho detto Diego e Noemi esatto? si Diego con la E aperta e Noemi Noemi no Noemi con la E aperta Noemi ecco esatto Noemi 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 E dice troppo con la E chiusa capito? io l'ho chiusa allora proprio non ce l'ha no ce la fa ce la fa è che ogni tanto ci deve fare più caso Lorenza ma lei ce la fa invece perché io ho conosciuto persone che non ce l'hanno fatta fino alla fine del corso tra cui anche ah no questa è la quarta lezione quindi no le posso dire invece che lei è molto brava perché si impegna anche tanto eh ci sono professionisti avvocati eccetera che a un certo punto hanno desistito e ha detto no non ce la faccio e e non ce l'hanno fatta perché hanno mollato nella vita se vogliamo raggiungere dei risultati dobbiamo persistere e dobbiamo continuare a perseguire i nostri obiettivi quindi persistiamo va bene? va bene l'ascolto l'ascolto quindi vado nei nomi in ogna ogno carogna cicogna fogna menzogna rampogna vergogna zampogna no no aspetta aspetta questi invece li dobbiamo questi li dobbiamo aggiustare un attimo aspetta policonio la allora allora di nuovo me li legga di nuovo carogna no carogna questi qua ce li dobbiamo aggiungare questi che finiscono in ogna ogno lei non ce li ha quindi deve essere carogna 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 sì cicogna cicogna no tutte devono essere tutte chiuse allora si impegni ricominci da da prima devi dirmi tutti con la o chiusa carogna no carogna 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 e la o chiusa com'è la per o o o o car o carogna 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 no carogna o allora mi dica soltanto comincia a dire ogni ogni no ogni 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 allora mi dica mi dica questa bella o chiusa se no non ce la facciamo eh sì non l'ho chiusa carogna 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 no no facciamo una cosa per volta mi dica la u la u no la o o o o mi dica la o aperta o o di nuovo mi dica la o o o o è un po' chiusa vero o o no è certo è più chiusa perché la o 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 si chiude come se quasi come se fosse la u ma nella u è ancora più chiusa o u carogna carogna no carogna no carogna 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 cicogna cicogna no allora no mi deve dobbiamo partire da una base Lorenzo dobbiamo parla a vostra base deve essere ogni se lei non dice ogni non riuscirà a dire neanche il resto quindi abbiamo detto la o chiusa me la puoi ripetere ogni no mi deve dire solo la o chiusa ascolti quello che le chiedo o scusa o no questa è la o aperta o o no questa è la o aperta o o o o o o o o nella o la lingua va avanti nella o va leggermente indietro o 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 quasi dobbiamo prima lavorare sulla o sennò non o O. 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 Dica una sola volta, ascolti me e poi ripeta. O. 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 Sì, memorizzi, quando le dico sì, memorizzi che cosa fa con la bocca? O. O. Sì. O. O. Sì. O. 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 No, adesso ho sbagliato. O. No, attenzione, devo ascoltare me. Sì. O. 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 Brava. Adesso alla O aggiunga anche Gne. O. 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 No, O. O Hanni. O. O Hanni. O. Gni. O. Gni. O. Gni. Sì. O. Gni. Sì, di nuovo. Sì, di nuovo. Nelle altre case. Le ha dette negli altri casi, no? Lei, atroce, come dice? Atroce, feroce, come dice? Atroce, feroce, foce, veloce, carogna. E qui nella O che devi utilizzare, carogna. 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 Sì. Carogna. Carogna. Esatto. Carogna. Quindi quelli con la O, NIA. Carogna. 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 Sina carogna No, carogna Forse non mi piace la parola Veloce Veloce lo dice bene, vedi? Perciò se dice veloce dovrebbe dire anche ogni Eh, infatti questo non riesco a spiegare Eh, vabbè, vabbè, vediamo Forse non la uso quasi mai, carogna, non l'ho mai pronunciata E forse è meglio che la vocabolario Lei elimina tutte quelle che non le vede Devo eliminare bene, ok? E carogna No, no, deve solo dire bene, perché bene è bene, perché non può dire Benissimo, benissimo, lo dico bene? Così dico benissimo Sì, vabbè Come lo scienziato pazzo, faccio in modo che Non ho più la schermata delle parole Adesso gliela ridò Allora Veda un po' Rampogna, vergogna, zampogna, bisogno Vediamo come le dice queste parole Rampogna, vergogna Sì Vada lentamente, che devo sentire bene Ripeto, da carogna? Carogna abbiamo detto che non abbiamo tolto il vocabolario Quindi andiamo avanti Cicogna? Fogna? No, cicogna deve essere chiusa Cicogna Fogna? Fogna, no, pure questa non ce l'ha Menzogna Le parole in ogni e le vengono proprio difficili Vergogna? Vergogna, no, vergogna Vergogna, menzogna Bisogno Bisogno, no Bisogno Allora questo è con l'angno Cotogno Sogno Sogno Bisogno Bisogno Cotogno No Sogno Sogno Continuo? Sì, dobbiamo rifarlo per questo qua Non ce l'abbiamo ancora A me interesserebbe, sai una cosa Ogni Perché ogni nello dice sempre E quindi cosa devo fare? Vediamo io come lo dico? Vediamo, andiamo avanti dai Però si ricordi Però scusi, ha segnato? Sì, ho segnato Ah, ok Andiamo avanti Avvoltoio Accappatoio Avvoltoio, no Avvoltoio Avvoltoio Accappatoio 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 Accappa Accappatoio Toio Mattatoio Rasoio Smoccialatoio Smoccialatoio No, smoccolatoio Vabbè, questo è un termine che non userà mai Vassoio 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 Con l'occhio Vassoio 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 Parole Nelle parole Nelle parole Nelle parole 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 Eh, bravo Parole Parole Sì Parole Sì Cogitabondo Pugitabondo Cogitabondo Cogitabondo Pugitabondo Pugitabondo Parole. Parole. Sì. Poi. 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 Nei nomi che terminano in one. Bottone. Cannone. 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 Carbone. Cartone. Educazione. Garzone. Gestione. Mattone. Nazione. Portone. Porzione. Regione. Religione. Ok. Buono. Poi. Termini in one. Abbandono. Confeziono. Ispeziono. Perdono. Seleziono. Seleziono. Sono. Benissimo. Andiamo avanti. Nei nomi in ore. Accusatore. Amore. Attore. Avviatore. Avviatore. Ambasciatore. Calore. Censore. Compositore. Scultore. Debitore. Dolore. 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 Dottore. Ingannatore. Peccatore. Pescatore. Valore. Sì. Esatto. In osi, osi, oserò. Eh, vediamo questi. Fosi, posi, nascose, riposero. In oso, affettuoso, astioso, bellicoso, chiassoso, delizioso, fiducioso, insidioso, misterioso. Ok. E questi pure ce li ha per fortuna. Ah, alcuni perché vi vengono così naturali e alcuni, vabbè. Eh, perché sono, per come le ha memorizzate, capisci, capisci, dipende dal suo dialetto, la parlata locale, che lei non è, allora, ormai il dialetto è quasi scomparso, però la cadenza dialettale rimane, quindi anche se lei non parla in dialetto, però la cadenza rimane, quello è. Va bene, ce la farò. Ma sì, ce l'ha già fatta, non si preoccupi. Quindi sono, devo ripetere, caroni, la ho chiuso. Per il momento sono questi qua. Poi. Siamo arrivati fino alla fine. Delizioso, fiducioso, insidioso e misterioso. Giusto? È giusto. È giustissimo. Ok. Parole, parole. Parole. Adesso vediamo di prendere l'altro manuale. Lei ce l'ha... Bu, 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 bu. Quello degli esercizi di dizione? Sì, ce li ho. Ho tutto il manuale che mi ha inviato. Ma anche quello è stampato. Con l'ho aperta? Eh. No, dico, a parte il manuale questo qua. Dico, quello con tutti gli esercizi. Sì, me l'ha inviato. Eh, lo può prendere un attimo, nel frattempo lo cerco anche io? Sì, con la O. Sì, la parte degli esercizi con la O. Ho il primo con la O aperta. Sì. Esercizi di dizione. Dove provai un brivido sul dorso nel vedere la volta uscire dalla forra nel sottobosco. Ok, aspetti che lo prendo anche io, eh, che ce l'ho. Allora. Dunque, esercitazione con l'ho aperta e chiusa, l'abbiamo fatto. Andiamo avanti e leggiamo con la O aperta. Ok. Prendi una matita e segna gli accenti fonici corretti e questo poi le lo farà a casa. Ora, provi a leggere lentamente queste frasi e io la correggo laddove la O la dice sbagliata. Va bene? D'accordo. Va bene. Sì, va bene. Va bene. Va bene. Poi. Allora. Sì. Provai un brivido sul dorso nel vedere la volta uscire dalla forra nel sottobosco. Sì, va bene. Il cantore aveva appena finito di cantare la strofa con la bora. No, la strofa, non la strofa. Con la strofa? Strofa? Strofa, con l'ho aperta. Con la strofa. Trofa, trofa che la bora se lo portò via. La bora, non la bora. Con la bora se lo portò via. Con la bora. La bora. Se lo portò via. Poi? Le imposte della finestra battero fino a scheggiarsi a causa del forte vento di Scirocco. Sì. Il filare di Pioppi sembrava il sipario di un teatro di posa. Sì. Il camoscio è un ungulato, ma se d'oro è anche un morbido formaggio. Sì. L'andolfo, il filosofo di Canossa, bebbe da una ciotola di terracotta. Sì. L'uomo sullo scoglio agitava la torcia infuocata. Sullo scoglio, faccio sentire di più la ieri. L'uomo sullo scoglio. Eh, bravo. L'uomo sullo scoglio agitava la torcia infuocata. Sì. E poi l'ultima parte non riesco. Sì, sì, adesso glielo scendiamo giù. La rocca svettava nella parte alta dell'acropoli sopra. Nella parte alta dell'acropoli sopra. Nella parte alta dell'acropoli sopra il colosso di Rodi. No. Di Rodi. Rodi. Sì, con l'ho aperta. Lei poi si segni queste parole con l'accento grave o acuto? Lo percosse con tutta la forza del pugno, costringendolo a mollare il giavellotto. I devoti si inginocchiavano avanti al sacerdote, ritto sulla forza del pugno. No, no, sacerdote. Sacerdote. Sacerdote, con l'ho aperta. Sacerdote. 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 Dotte. Sacerdote. Sacerdote. Guardai commosso sulla porta del negozio. Eudossio il corvo riprendere il volo. Leopoldo voglia a tutti i costi rendere omaggio a coloro che erano nati sotto il segno del Capricornio. No, sotto il segno, sotto il segno. Sotto il segno. No, sotto il segno. Segno. S, s, segno. Sotto il segno. Qui è la S? No, è la E che sbaglia. Segno. 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 E la E di segno che deve dire chiusa. Segno. No, segno. Nati, sotto il segno. 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 Me la dice aperta e chiusa? Vediamo, voglio sentire la differenza. Allora, lei dice segno. E invece si dice segno. 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 Più chiusa. Se, s, e, allora dica s, e, gno. S, e, gno. No, s, e, dica una E chiusa. E. E, esatto. Quindi? Segno. Segno. E, esatto. Segno. 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 No, qui sotto il segno. Segno. Segno del Capicorno. Esatto. Il piatto pianoro era attraversato da nord a sud dal Ghirigoro, Ghirigoro di un tumultuoso torrente montano. Sì. Rodolfo, nonostante il torcicollo, si godè l'apoteosi decretata dai suoi concittadini. Sì. L'origine preistorica del dipinto rupestre dette lustro alla rassegna pittorica. Alla rassegna pittorica. Alla rassegna, anche qui rassegna pittorica. La rassegna è chiusa. Rassegna. Poi, andiamo avanti. Poi, poi. Il ricordo, il ricordo l'ho presa allo stomaco sotto forma di... Non riesco più a leggere. Sì, aspetti. Sì. Sotto forma di penoso, rimorso. Esatto. Rimorso. Rimorso. Il gastronomo improvvisò i versi di un anonimo poeta. 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 Poeta, no poeta. Poeta, poeta. 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 Qua è aperta o chiusa? Poeta. È aperta. Poeta. 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 Poeta, poeta. 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 Poi, poi. L'orco alto con il ciclo, ciclover, mise in fuga i suoi assalitori. Sì. Gregorio, il burocrate, si fece cuocere una ragosta in crosta. Il nocciolo, il nocciolo di albicocca, per poco, per poco, non gli andò di traverso. Il nocciolo. La parrocchia di donna addolso non è lontana dalla dimora del nonno. Va bene. La fidanzata era una cozza, ma la condusse a nozze su una carrozza. La fidanzata era una cozza, bellissimo. Il cuoco preparò l'arrosto con due foglie d'alloro. Il cuoco preparò l'arrosto. Il cuoco preparò l'arrosto. Con due foglie d'alloro. No. E' un ripieno d'alloro. Due foglie d'alloro. 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 No, d'alloro, con la O aperta. D'alloro. 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 Sì. Due foglie d'alloro. Sì. E' un ripieno di ricotta salata. Esattamente. Alloro. Alloro. Alloro, no, alloro. 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 Poi. E poi non leggo più. Sì. Alloro. Accappatoio. Accappatoio. Accappatoio, no, accappatoio. Accappatoio. Come lo faccio a memorizzare? Accappatoio. 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 Innanzitutto capire e sapere che si dice con la O chiusa. Perché lei fino ad adesso l'ha detta con la O aperta perché non lo sapeva. Giusto? Giusto. Una volta individuato il problema è cercare di risolverlo dicendolo tante volte, tante volte, tante volte, finché poi le verrà naturale dirlo. Accappatoio, 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 accappatoio. Io ho provato ad andare sul sito del dizionario.rai che mi ha consigliato. Eh, non si trova? Però non c'è più il programma per sentire il vocale. C'ha ragione, perché adesso è cambiato, ma adesso vedo un altro sito. Eh, ma perché ascoltare aiuta tanto. Eh certo, è certo. Allora, com'è questa cosa? Sì, l'ho scoperto da poco, perché è sempre quello della RAI, però rinnovato, ma ha un dominio che praticamente, ma che ne so, cioè è proprio assurdo. Ora glielo sto inviando, eh? D'accordo, sì. Ok. Grazie. Prego. Ti provo con questo. Sì. Quando vuole. Cuoco, ripeto cuoco. Brava, brava, cuoco, bravissimo. Cuoco preparò l'arrosto con due foglie dal loro. No. Dal loro. Dal loro. Dal loro. Dal loro. Dal loro, no, dal loro. Dal loro. È un ripieno di ricotta salata. È un ripieno di ricotta salata, vabbè. Procopio preferì chiederle il divorzio piuttosto che liberarsi di Dolores con un colpo di schioppo. L'alloggio del Gaglioffo si affacciava sul campo di carciofi. No, carciofi, ha detto bene, perché? No, dei carciofi. Eh. Legge. Poi no, ecco la stessa... Adesso, vabbè, questi sono gli accenti fonici corretti. Vabbè, poi l'ho tagliato. Invece adesso facciamo l'esercitazione con la O chiusa. Leggiamoci queste qua con la O chiusa. Vediamo come se la cava. Il liquore versato nel bicchiere aveva un sapore amarognolo. Il liquore versato nel bicchiere... Nel bicchiere. Bicchiere, l'ho aperta. Bicchiere aveva un sapore amarognolo. Aveva un sapore amarognolo, ok. Va bene. Va bene. No, va bene, non va bene. Ma come si dice? Che è una parola che si usa sempre. Va bene, va bene. Va bene, va bene. 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 Spari menzogne come un... No, 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 non ho capito. Di beta? Spari menzogne come un... Chi no? Allora, in realtà aveva sbagliato. Sparò menzogne come un kalashnikov spara pallottole. Ah no, tu, no. Tu spari menzogne come un kalashnikov spara pallottole. Spari menzogne come un kalashnikov. Menzogne, vedi che lei quella in ogni 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 non ce l'ha. Eh, in ogni, allora devo ripetere ogni. Sì. No, e quello le devo purtroppo imparare proprio perché non ce l'ha. No, menzogne. Ogni, ogni, menzogne, menzogne. Ogni. Menzogne. 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 Mi rodo il fegato nello scorso. No, mi rodo il fegato nello scorgere come butti i soldi. Soldi. Nello scorgere come butti i soldi. Va bene. La signora Gona indossò il cappotto di bigogna. Bigogna. Sì. Il topo uscito dalle fogne. No, il topo, no, il topo. È aperta, il topo. Il topo. Eh. Il topo. Il topo. Uscito dalle fogne di bitonto. Proprio bitonto. Fuggì al nodo. Ah, visto che è conceduto. Forsoio rifilandosi nel cuoro. Sì. La cosca mafiosa non sapeva del paragone con le foglie del carciofo. Del carciofo, del carciofo. Del carciofo. Eh. Del carciofo. Del carciofo. Del carciofo. Del carciofo. Sì. Del carciofo. Del carciofo. Prendimi l'accappatoio. Prendimi l'accappatoio. Prendimi l'accappatoio. Faccio bene a chiederlo? Prendimi l'accappatoio. Prendimi l'accappatoio. 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 Oio. Accappatoio. 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 No, vero. Accappatoio. 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 Oio. Dica solo oio. 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 Lo dico correttamente? Oio? No. Perché lo dobbiamo ripetere? Oio. 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 Accappatoio. 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 Mentalmente l'ho capito, ma non riesco a... Eh vabbè, ma l'importante è già averla capita. Accappatoio. 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 No. Accappatoio. Sì, l'ha detto bene adesso. Accappatoio. 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 Questo in piscina è un termine che uso sempre, perché dico ai bimbi di prendere l'accappatoio, quindi lo sbaglio. Eh vabbè, quindi lo dobbiamo imparare. Accappatoio. Quindi lo dobbiamo imparare. Esatto. Accappatoio. E se lo insegno anche a loro a dirlo scorrettamente. Eh sì, eh sì, lo deve dire corretto. Accappatoio. Accappatoio. Come posso impararlo? Dividendo la parola? Dividendo la parola. Accappatoio. 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 Esatto, lo dico un po' meglio? Accappatoio. Sì sì, accappatoio, lo dice bene. Quando lo dice a rallenti lo dice bene. Poi quando invece... Ma è normale, Lorenza, è normale, non si preoccupa. D'accordo. È normale. Accappatoio. Accappatoio giallo che ho deposto sull'asciugatoio. Eh? Asciugatoio? Asciugatoio. Asciugatoio. Osservai Rodolfo dalla feritoia e mi accorsi che indossavo una maschera azzurronola. Il colpo in testa gli procurò un bitorzolo grosso come un uovo. Un bitorzolo, non un bitorzolo, un bitorzolo. Grosso come un uovo. Uovo. Va bene. Uovo. Poi? Accappatoio. 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 La risposta di Lopoldo l'ho persa. Sì. Lo lasciò senza parole. Esattamente. Prendi l'olio e versalo sui peperoni, ma per favore togli lo scalogno. Brava. Girò il comello della doccia e si trovò a mollo fino all'addome. Brava. Quattordici uomini sulla cassa del morto cantavano a squarciagola. Sì. Preso dalla foga mi liberai... No, dalla foga, no, dalla fuga. Preso dalla foga... Preso dalla foga... ...della foga mi liberai del cialtrone con uno spintone. Trovai il ricovero nascosto sotto l'edera... Nascosto, non nascosto, nascosto. Nascosto sotto l'edera e mi liberai degli inseguitori. E mi liberai... Degli inseguitori. Degli inseguitori, sì. Il sogno... Il sogno, no, si ricordi quelli con la O. Il sogno... Il sogno... Il sogno... Il sogno si trasformò in un incubo dal quale Giorgio si rivestò sudato fin nelle midolle. Come sudato? Fin nelle midolle. Perito nell'orgoglio... Perito nell'orgoglio... Non vogli sedermi sulla poltrona... No, sedermi, 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 sedermi... Sedermi, 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 sedermi. L'operazione all'addome non gli procurò alcuna contrazione. L'indicazione è fastidiosa. Esatto. Addome. Sì. Addome? Addome, con la O aperta, Lorenzo. Addome. Era un vero cialtrone e non gli dedicai alcuna attenzione. Sì. Avevo un senso di languore nello stomaco e dovessi accontentarmi di un biscotto intinto. Intinto, ok. Legge? Eh no, no, non leggo più. Ah, passiamo. Intinto nel liquore. Poi, l'avventuriero di Pistoia. Pistoia possiedeva un castello con tanto di ponte e levatoio. 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 Quindi tutti quei olio levatoio. Il colomo calò il piccone sulla zolla sfiorando il tronco di un albero. Il trattore aveva la trazione sulle quattro ruote e fu faccia a rivoltare le zolle sul contrapporto e montuoso. Il bastimento aveva la fiancata di barbordo di un orrendo colore giallognolo. Giallognolo. Il mito di Apollo ricorda un'antica leggenda del sole. Sole? Sole. Sei un folle se pensi che ballare sul ciglio dello strapiombo non sia pericoloso. Pericoloso. Sì. Fu un'umiliazione per il giovane dalla barba rossa a finire sconfitto sul filo di lana. Sì. Il pastore con la zampogna. Zampogna? No, zampogna con la zeta sorda. Zampogna. Con la zampogna. 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 Z, z. Z. Dica z. 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 Lorenza lo dico bene, Lorenza. Sì, sì, Lorenza lo dice. Il mio nome, Lorenza. Lo dice benissimo, sì. Almeno il mio nome. Vabbè, ma che c'entra? Ma questo qua, le altre le dice, e zampogna non è che le sbaglia, perché tutti dicono zampogna, zampogna. Però secondo la dizione, visto che stiamo facendo un corso di dizione, le devo dire che la zeta è sorda, zampogna. Cioè se lei dovessi andare in televisione. E ripeto, sarebbe giusto metterlo nelle scuole. Eh, lo so. E ma le scuole non ci stanno, ci sta l'inglese, ma non so in parola l'italiano. Eh, infatti. Paradossale, no? Ma sarebbe carino. Che poi questa non è l'italiano, cioè l'italiano lo conosciamo, però questa è la dizione, la pronuncia corretta dell'italiano senza inflessioni da lettale, naturalmente. Sì. E lo so. Sarebbe bello conoscere il dialetto e poi la giusta dizione. E poi, no, e poi, e poi. E poi, e poi. Sì, bisogna conoscere entrambe le cose. Entrambe le cose. Però poi si rimane invece nella cadenza dialettale e non si conoscono altre cose. Quindi il pastore con la zeta, non l'ho capita, la zampogna. Sì, allora guardi, Lorenza, come dice zà di Lorenza? Lorenza. Invece dica Lorenza zampogna, Lorenza zampogna. Il pastore con la zampogna. Brava, così. Ah, con la zampogna, improvvisò il tema di una canzone in voga. Esattamente, brava. Lorenza, Lorenza. Lorenza. No, perché lo dice correttamente il mio nome, mi piace, è bello quando uno pronuncia il nome corretto degli altri. Eh, lo so. Il suono, che gradevole. Un nome che è Eleonora, è difficile da pronunciare bene. Eleonora. Eleonora. Perché uno dice Eleonora, invece no. Eleonora. 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 E noi diciamo Eleonora. Invece è Eleonora. 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 è Eleonora Berigliadori è Eleonora Daniele è Eleonora va bene andiamo andiamo avanti Lorenzo che siamo addirittura di arrivo in provviso il tema di una canzone in voga in voga in voga in voga la botta sul gomito oltre a procurarle un dolore atroce si trasformò in un libido verdognolo le colonne del peristilio no le colonne le colonne del peristilio le colonne del peristilio sono di origine dorica brava lo accolse con parole no parole con parole parole con parole colme di acrimonia ma la sua risposta la lasciò sconvolta la sua risposta con la O chiusa risposta risposta sì risposta risposta con la O chiusa risposta no risposta Lorenzo risposta 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 di quella con la cipolla no la cipolla non la cipolla la cipolla cipolla quindi la O chiusa più chiusa cipolla entrò come un ciclone nello stanzone sollevando un turbigno di cartoni il cobra si sollevò pericolosamente ma il domatore fu abile ad afferrarlo per il collo collo la scrofa aveva messo al mondo 14 rose e porcellini rose e porcellini il divorzio di due coniugi comportò imposte raddoppiate versai un goccio di aceto sull'insalata posso ripetere il nome di mia figlia Noemi scusami Lorenza ho detto posso ripetere il nome di mia figlia se lo dico si Noemi la i l'ho capita Diego la c e la e ci sono Noemi Noemi si Noemi 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 No Noemi Noemi No lo dice chiusa dice no Noemi 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 Devo fare con la e No Noemi 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 Si Noemi 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 Si Noemi Noemi Si Ok 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 devo tenere un po più lunga la e ok ok è brava anzi ci provi ok 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 noemi noemi è un nome anche faccia da strano noemi ci sono devo continuare il tubo il tubo della doccia non versava una goccia la goccia e stai col sapone in ok penso che ci sia più bello fare il doppiatore fare il corso da ma poi lo farà poi lo farà le misasse voglio giovedì giovedì ogni obiettivo è imparare le giuste le giuste il modo giusto di di legge di fare le parole di esprimersi va bene cara lorenza credo che oggi abbiamo fatto una bella lezione bella intensa è stata molto brava io sono molto contento sa ammiro il suo sforzo il suo impegno perché devo dire la verità ho incontrato varie persone pugliesi però devo dire che non per non ricordo persone che si siano impegnate come si è impegnata lei forse giusto un assessore che aveva un problema con la r francese però poi sì sì no lui si era impegnato però poi ha dovuto sospendere però vedo da parte sua proprio un grande una grande passione dedizione e lei con con gli strumenti diciamo semplici di cui a disposizione sta riuscendo invece a fare un lavoro egregio quindi brava lorenza grazie ma anche merito suo perché mi motiva è motivante e vabbè cerco ma il mio lavoro è quello in realtà il mio lavoro è quello di insegnare quello di motivare fa parte la mia personalità è una cosa in più allora aspetti che stoppo la registrazione grazie